Ciao ragazzi, oggi andremo a fare degli esercizi per la mobilità della schiena e poi faremo degli esercizi per la forza e per rinforzare le gambe. Adesso iniziamo con esercizi per la schiena, appoggiare ginocchia, piedi e mani a terra su un tappetino se ce la avete, braccia tese guardando in avanti dovete fare questo movimento, inarcare la schiena, movimenti lenti, prendere fiato quando sono qua e puntarlo quando vado inarcare la schiena. Fatelo dieci volte, due serie a dieci fatelo. Bene, ok? Fatto questo, fate una decima di secondi di recupero, facciamo la stessa cosa alternando braccia e gambe, quindi alzando braccio destro e gamba sinistra e alterniamo la cosa. Braccio destro, gamba sinistra, guardando sempre in avanti, facciamo sempre due serie e facciamo dieci movimenti. di recupero in mezzo. Dopodiché andiamo a rinforzare un po' la squatura delle gambe, facendo dei mezzo squat, facciamo 20 ripetute e facciamo due serie, ok? con una ventina di secondi di recupero in mezzo. Quindi, gambe divaricate, larghezza spalle e andiamo col sedere indietro. Uno, due, i piedi sono, le punte di piedi un po' puntate verso l'esterno. e andiamo dietro, schiera piatta e andiamo col sedere all'indietro. Come se dovessimo cercare una serie, ok? Mezzo squat, due serie a venti. poi ricopriamo 20 secondi, facciamo degli affondi in avanti. Ok? Quindi, mani sempre sui fianchi, affondi in avanti. Mi raccomando, spierna sempre dritta, il ginocchio non deve toccare terra e guardiamo sempre in avanti. facciamo sempre due serie, facciamo 20 ripetizioni per gamba, due serie e 20 ripetizioni per gamba. fatto ciò, ricopriamo un po', una ventina di secondi, poi facciamo degli squat jump. Ok? Mezzo squat jump, scusate. Quindi sempre mano sui fianchi, larghezza, gambe sono la stessa e larghezza delle spalle. guardiamo sempre in avanti, andiamo giù e saltiamo. Quando torno giù deve rimbalzare bene il piede, non deve andare giù diretto ma rimbalziamo un po' con i piedi. facciamo due serie, 10 ripetizioni. Dopodiché li mettete appoggiati a una qualsiasi parete e facciamo dei movimenti per i flessori dietro della coscia. facciamo due serie da 20 ripetizioni. Il recupero non lo facciamo perché tanto alterniamo le gambe, quindi il recupero è questo, il cambiare gamba praticamente. Solo questo. Ok? Ciao!